Si accusano a vicenda di aver distrutto questo paese, ma si preparano in realtà a continuare a farlo insieme. L'unica alternativa è il voto amnistia, giustizia, libertà che significa ridare al diritto, alla democrazia un valore e per il futuro con i radicali per costruire una vera alternativa a questo regime. Sono qui da 60 anni, è ora di farla finita.